Nella giornata di sabato la gara grossa è stata vinta da Antonio Campanelli con un percorso davvero fenomenale che è andato nel finale a battere il leader, praticamente sin dall'inizio, Cristian Pizzianti. Abbiamo qui ospite Antonio Campanelli, Cristian Pizzianti e Diletta Pizzianti, tutti e tre protagonisti di questa gara. Cristian, allora, sei stato davvero fantastico all'inizio di questa gara grossa di oggi andando al comando. Poi hai guardato i percorsi di Diletta e poi hai subito l'attacco, diciamo la zampata vincente di Antonio. Sì, devo dire la verità, non pensavo di rimanere primo fino alla fine, ma lui ha fatto un percorso, Antonio ha fatto un percorso strepitoso, quindi ho dovuto subire. Senti, una prima fase, la gara era fase, una prima fase un po' particolare con una parte esterna e poi una seconda fase altrettanto ricca di punti di domanda perché c'erano in un percorso un po' tortuoso diverse scelte da prendere. Sì, diciamo la prima fase con quella parte che andava un po' fuori dal campo dava abbastanza difficoltà e poi la velocità della seconda fase alla fine eravamo tutti in pochissimo tempo, quindi bastava, cioè ci voleva quel qualcosa in più per passare davanti perché non era così facile, quindi lui è stato veramente bravo. Ok, Diletta, questo percorso è stato, insomma, un po' faticoso in questa prima fase, ti è piaciuto però? Sì, molto, molto, è una bellissima esperienza, la bagnaia è sempre un concorso fantastico da fare. Poi ci sono le feste la sera, insomma c'è un po' di tutto, vero? Sì. Ok, allora sentiamo Antonio Campanelli, è stato veramente strepitoso. Antonio Stuzzi è stato uno dei protagonisti, già nel 2017 hai vinto il Gran Premio qui e oggi sei stato davvero fenomenale. Sì, già nel 2017 ero presente qui, è stato il mio primo concorso alla bagnaia e mi ha portato veramente subito un bellissimo risultato. Oggi di vincere la gara da un metro e quaranta mi dà soddisfazione, comunque è un campo veramente bello, cioè strepitoso, si salta molto bene, i miei cavalli sono veramente contenti che apprezzano tanto questo terreno. Dunque, Cornet Rouge, lo abbiamo visto, è davvero un cavallo che sa fare il campione e poi ti dirò di più. Chi è ultimo a partire vince, è solo un campione. Quindi in questo caso... No, 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 diciamo che la cavalla la conosco molto bene, è cresciuta insieme a me da quando ha quattro anni, quindi si è costruito un bel binomio e piano piano diciamo in questi ultimi mesi mi sta dando veramente un sacco di risultati positivi. Senti, ma in tutto questo c'è anche spazio per divertirsi? Perché qua a Bagnaia ogni sera c'è una festa. Sempre, sempre, sempre. Ci sei? Sì, 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 anche questa sera sicuramente sarò presente. E allora ringrazio Antonio Campanelli, complimenti, super vincitore, Cristian Pizzianti e Diletta Pizzianti. Grazie.